A Fenestrelle e per gli European Master ci sarà la Vertical Run, un'occasione importante per il territorio? Beh, sì, importante sì, perché vuol dire un richiamo internazionale per un forte che merita anche questo, ma non solo per il forte, anche per un comune che sui forti sta investendo molto. Il comune di Fenestrelle è un comune alpino che ha parecchi punti di forza, oltre il parco, la natura, gli animali, ma anche ha molta storia. Per cui questa occasione è per noi importante sia per mettere la prova agli atleti su una scala che è infinita, enorme, e ogni volta è bello vedere il record, ogni anno si batte il record, per cui è interessante anche questo. Per noi che è faticoso, facciamo le visite, sappiamo cosa vuol dire come impegno atletico. E dall'altra significa anche per questo nostro forte, per questo bene non solo nostro nazionale, avere un richiamo, avere una vetrina di grande rilievo a livello internazionale, per cui non è poco direi.